Il palazzetto praticamente mancano, se non mi ricordo male, intorno ai 190-200 mila euro e questo pare che sia stato messo addosso alla persona che vorrà gestire questo palazzetto. Quindi mi sembra un attimino assurda come cosa, ma purtroppo questa è la decisione da parte dell'amministrazione. Il problema è che sono più di 4-5 mesi che è così fermo come lo vedete. E quello che più ci preoccupa è che se dovessero andare, come fanno di solito, a rubare quello che è il rame o altro materiale significherà spenderci il doppio e quindi per aprirlo ci sarà ancora più tempo a disposizione. Invece per il parco il problema è che ci è stato segnalato in commissione da parte dei componenti dell'Associazione per Fontanelle che la notte diventa terra di nessuno, dove fanno combattimenti di cani, dove c'è un problema di spaccio e di tossicodipendenti, dove ci sono i giochini dei bambini praticamente rotti, dove ci sono le panchine di velte messe fuori dallo stesso parco. Insomma, un parco che sicuramente si chiama della serenità, ma non credo che rispecchi la parola stessa. Quindi il problema rimane, il problema è un problema di mancanza da parte dello Stato e quindi delle forze dell'ordine che purtroppo ci sono solo esclusivamente tre volte a settimana con un unico agente di Polizia Municipale che fa il suo lavoro sicuramente.